Stefano Boschini il coordinatore nazionale del settore auto della FIMCISL ha commento della riunione al MIMIT dove ASSINSI ha incontrato le parti sociali ma l'intesa è lontana. Sì siamo dentro una trattativa particolarmente difficile il cui primo ostacolo che abbiamo affrontato ieri è la questione del trasferimento di tutti i lavoratori nel nuovo stabilimento che secondo noi deve essere fatto con accordo sindacale e che deve dare garanzie a tutti i lavoratori di essere trasferiti. L'azienda aveva proposto inizialmente una sorta di bando interno per il trasferimento progressivo ma che era molto aperto anche all'esterno dello stabilimento e questo per noi comporta gravi rischi quindi noi abbiamo chiesto che ci sia un accordo quadro che definisca come primo punto che tutti devono essere trasferiti che tutti debbono avere il diritto ad essere trasferiti nel nuovo stabilimento. Dobbiamo dire che il ministero è stato di grande aiuto nel senso che alla fine della riunione ha preso una posizione formale anche per iscritto nella quale si dice appunto che questo deve accadere e che per procedere con la trattativa bisogna superare questo primo passo. Il secondo punto che non abbiamo discusso ma che contiamo di discutere nel prossimo incontro che sarà il 10 di aprile riguarda la questione della continuità lavorativa. ACC propone il passaggio attraverso dimissioni e assunzione della nuova società. Noi vogliamo che i lavoratori passino in continuità quindi con le garanzie di tutte le anzianità aziendali e di tutti i diritti che si maturano con l'anzianità. Questo è un punto ovviamente rinunciabile per noi. La Gigafactory di Termoli si pone al centro del futuro assetto nella transizione energetica nel settore dell'auto. Quanto diviene strategica per le vostre dinamiche a livello nazionale sindacalmente parlando? È assolutamente importantissima perché all'interno del mondo Stellantis sarà il terzo sito in Europa a produrre batterie dopo quelli di Francia e di Germania. Quindi per noi è una questione importantissima. che però presenta alcune difficoltà dal punto di vista sindacale come dicevo prima perché è una gestione che non avviene in un periodo breve ma lungo un arco temporale piuttosto lungo quindi si parla dell'entrata regime a fine 2029 e inizio 2030 attraverso tre moduli che prevederanno quindi la discesa della produzione di motori nel vecchio stabilimento e la salita della produzione di batterie nel nuovo e questo dovrà incrociarsi anche con le esigenze del mercato. Ancora oggi nessuno ha dichiarato la chiusura formalmente del vecchio stabilimento e da quel che ci pare di capire la prospettiva è che forse resti in vita un po' più di quello che si pensava. Queste sono tutte complessità che vanno incrociate col fatto che i lavoratori che passano da uno stabilimento all'altro una volta superati i problemi che dicevo prima devono entrare all'interno di un percorso di formazione che deve essere molto forte, molto solido perché le competenze dei due stabilimenti sono completamente diverse, noi passeremo da lavorazioni meccaniche o da attività prevalentemente metalmeccaniche ad una produzione che è completamente diversa e per la quale i lavoratori vanno formati. Il tema della formazione per noi è un altro tema centrale perché è quello che garantisce il trasferimento di tutti. Per quanto riguarda invece l'assetto politico a livello aziendale, Carlos Tavares spinge sul dare forward, forse anche al di là di quello che fanno i competitor a livello mondiale, si parla anche di un incremento delle quote azionari all'interno di ACC. A giugno tuttavia l'Europa potrebbe cambiare il vento. È lecito attendersi in caso di una retromarcia da parte delle istituzioni comunitarie che se l'Antis possa trovarsi in fuorigioco rispetto alle scelte? Allora questa è una cosa molto difficile da dire, una retromarcia è una parola troppo forte forse, però forse un ripensamento dal punto di vista dei tempi della realizzazione di questa transizione ci può essere. Cioè le voci che arrivano è che ci potrebbe essere una volontà politica a livello europeo come dire di rallentare un pochino un processo che è stato velocissimo per il tipo di produzione che ha avuto ripercussioni e sta avendo ripercussioni molto negative dal punto di vista dell'occupazione e del lavoro per una serie di problemi ovviamente che sono quelli intanto che l'elettrico richiede meno lavoro complessivamente. E i tempi strettissimi di questo passaggio come dire ci danno molte meno possibilità di gestirlo da un punto di vista dell'impatto sociale. Quindi se ci fosse un rallentamento questo sicuramente favorirebbe una transizione più morbida dal punto di vista dell'impatto sociale. Però ad oggi non abbiamo certezza su nulla. Se c'è una cosa che caratterizza quello che sta succedendo è l'incertezza come dire che rende tutto più difficile. Anche dal piano come dire degli investimenti a parte delle aziende che sono investimenti di lungo periodo e quando non sai dove si vuole arrivare diventano difficili. Per quello che ci riguarda questo ha come dicevo prima ripercussioni enormi per cui più tempo abbiamo a disposizione e più sarà facile avere una transizione morbida senza impatti troppo drammatici dal punto di vista sociale. Questo vale ovviamente per Termoli ma lo stiamo vedendo in tutto il paese. Dall'alto della sua esperienza relativamente anche alla partecipazione al tavolo del 14 marzo che succede il 10 aprile? Allora il 10 aprile noi contiamo di formalizzare con un accordo quello che è stato il documento del Ministero in qualche modo. Quindi garantire che tutti abbiano il diritto al passaggio. Poi noi dobbiamo garantire la continuità lavorativa che significa che i lavoratori non debbono essere licenziati e riassunti nel nuovo stabilimento ma devono passare in continuità quindi con la garanzia di tutte le anzianità aziendali che hanno effetti dal punto di vista contrattuale sui diritti ovviamente e anche sulla retribuzione. Questo per noi è il secondo passaggio ma ce ne sono molti come dire che dovremo superare successivamente altrettanto difficili per la realizzazione di questo accordo per garantire tutti. Non è una trattativa facile perché le implicazioni e le variabili sono numerose e come dire in qualche modo condizionano questa trattativa all'interno di uno scenario che come dicevamo prima è particolarmente incerto. Ma qualora se si decidesse di non accordare questo passaggio in continuità il Ministero potrebbe anche decidere di fermarsi sull'impegno economico? Assolutamente sì, nel senso che noi siamo convinti che la nostra forza oggi è che l'azienda ha bisogno di un accordo, non può andare avanti da sola in una vicenda così complicata e questo ci fa ben sperare, mettiamola così, ma non fa venire meno le difficoltà di questa trattativa.